Ha vinto tanto in ambito italiano, se già comportata in maniera egregia anche fuori dai confini nazionali, ora sogna di mettersi al codo la prima medaglia iridata della sua carriera. Lo spera e ci crede, Paola Piazzolla alla vigilia di un vero e proprio appuntamento con la storia. La 19enne atleta barlettana sta partecipando in questi giorni ai campionati mondiali Under 23 di canottaggio in corso di svolgimento a Rotterdam in Olanda e domani è attesa dalla finale del 4 di coppia Pesi Leggeri Femminile insieme a Giorgia Lobue, campionessa del mondo in carica della specialità, Allegra, Franca Lacci ed Asia Maregotto. Il quartetto azzurro ha destato un'eccellente impressione all'esordio nella competizione internazionale. Ha vinto con autorevolezza la propria batteria precedendo nettamente le altre imbarcazioni. Ha conquistato il pass per la gara che assegnerà le medaglie senza passare dei ripescaggi ed è arrivata la finale addirittura con il miglior crono complessivo delle batterie. Buona la prima dunque in attesa della seconda, quella decisiva, quella che varrà mesi di sacrifici in programma domani a partire dalle ore 16.30. La finale del 4 di coppia Pesi Leggeri avrà sei pretendenti al trono. Gran Bretagna, Svizzera e Germania, ammesse come le azzure direttamente all'otto conclusivo e le ripescate Francia e Cina. La concorrenza sarà inevitabilmente agguerita ma Paola Piazzolla e le sue compagne di nazionale sembrano avere le carte in regola per puntare ad un gradino del podio se non addirittura a qualcosa in più. Non ha mai vinto una medaglia ad un mondiale e sa che è giunto il momento per farlo. La talentuosa atleta della città della disfida, tesserata con i vigili del fuoco Billy Masi di Pisa, ma cresciuta agonisticamente con la sezione di barretta della Lega Navale Italiana. Quest'anno ha già vinto un titolo italiano assoluto, ora proverà a concedersi il BIS in un contesto decisamente più prestigioso.